Oggi nell'Aula Consigliare di Sei a Buonavoglia del Comune di Eboli, voluta dal Sindaco Massimo Carello, si è svolta un'importante conferenza stampa di presentazione del progetto sul dialogo interreligioso, lo straniero che è in me. Venerdì la partenza del corteo da Piazza della Repubblica, poi il convegno a Liceo Classico. Questo è un percorso che abbiamo avviato già da un po' di anni con l'Associazione Mediterranea Civitas, da quando sono sindaco di questa città l'abbiamo affiancata, sostenuta e condivisa totalmente attraverso il piano di zona, S3 con l'ausilio di ben 5 comuni, di 14 istituti scolastici e sta crescendo notevolmente ed è un momento di riflessione, un momento anche delicato sulla questione degli immigrati, però noi stiamo facendo un ragionamento più che altro sugli immigrati stanziali, su coloro che ormai ad Eboli sono la terza generazione, oggi ci sono i nonni che accompagnano i propri nipoti a scuola e questa riflessione ci ha portato ad avviare un percorso di condivisione, di rispetto delle diverse culture e contemporaneamente anche di attuazioni, di criteri, dei diritti e dei doveri. E lo facciamo con il mondo scolastico, lo facciamo rivolgendoci non solo agli 8400 e passa studenti stranieri, ma anche ai tanti studenti delle scuole ebolitane affinché le culture diverse servano a far crescere le comunità e non invece a dividerle e a mettere dei muri. Ma l'obiettivo è anche quello di generare, attraverso poi la conscienza delle diverse culture, anche la valorizzazione della propria. Soprattutto è un valore condiviso, questo volevo dirlo perché noi rappresentiamo un'intera comunità, nel caso specifico la città di Eboli, tutte le scuole che afferiscono al nostro territorio, il piano di zona, i comuni di contursi, di campagna, è una rete di scuole veramente estesa e riprendiamo un discorso che non abbiamo mai interrotto. Già nel 2001, quando il nostro attuale sindaco Massimo Cariello era assessore alle politiche giovanili, alle solidarietà e all'accoglienza, noi abbiamo ideato e organizzato il primo convegno sulle religioni monoteistiche, che fu un convegno importante, lo stesso con una massiccia partecipazione di scuole, con Monsignor Riboldi, l'allora vescovo di Salerno e l'allora rettore del Pontificio Istituto di Studiare Abba Islamistica. Oggi riproponiamo, in un percorso mai interrotto, questo seminario, questo dialogo, in un momento in cui ce n'è molto bisogno perché i venti di xenofobia e di intolleranza sono forti, ma Eboli è una città di pace. Quindi rivendichiamo questo nostro titolo, rifacendoci soprattutto alla nostra eredità culturale e anche appunto di lavori iniziati in tempi non sospetti. Facciamo delle belle cose insieme per la pace e per l'integrazione. L'integrazione che sembra per noi già una parola superata, perché più che integrare persone, noi vogliamo che le persone convivano con noi, stiano con noi, condividano con noi determinate esperienze di vita. Io credo che il mondo non ha confini e noi da qui dobbiamo partire.